Terra Mara, anticipazioni di giovedì 6 e venerdì 7 luglio, dove vedremo il confronto tra Ilmas e Mushgan. La puntata inizia con Demir che si reca alla riunione indetta da Fekeli ad Adana e si inizia a discutere dell'omicidio di Atip. Tutti concordano che è stato punito per aver complottato contro i suoi cittadini. Interviene Fekeli dicendo che quello di Atip è il secondo omicidio dopo quello di Vedat e anche se tutti loro sono arrabbiati con lui, Atip era un uomo di Chukurova e si devono occupare della sua morte, altrimenti quegli uomini continueranno ad uccidere. Demir interviene dicendo che Atip ha ucciso il suo più caro amico e lo ha incolpato della sua morte e per questo crimine lui è stato in carcere ingiustamente, tanto che avrebbe voluto ucciderlo, ma riconosce che ora ha ragione Fekeli e devono tutti unirsi ed agire insieme per un unico obiettivo. Nel frattempo gli uomini di Ankara, ossia Errol e i suoi complici, sono preoccupati perché il loro capo si è arrabbiato moltissimo per la morte di Atip e loro sospettano che è stato ucciso dai suoi cittadini quando hanno scoperto che lavorava per loro. Sono raggiunti da una loro spia che li informa che a Chukurova tutti danno la colpa a loro perché li hanno visti litigare con Atip e che ora Fekeli ha radunato tutti gli imprenditori per organizzare una vendetta. E Ran allora dice che si devono occupare di Fekeli. Intanto Zuleya è con Ilmas che si coccola Adnan e gli dice che il suo vero nome è Ilmas e che lei lo chiama così quando sono soli. Ilmas è commosso e sorpreso e Zuleya gli chiede se la perdona. Lui però le dice che è lei a doverlo perdonare per averla giudicata senza conoscere cosa le era successo e che lui è stato la causa di tutte le sue disgrazie. Poi le dice che non vuole separarsi da suo figlio e le chiede cosa potranno fare per stare insieme. Zuleya gli risponde che devono essere pazienti e stare attenti a tutto ciò che faranno per non essere separati per sempre. Quando Demir torna alla villa trova il cancello sbarrato. È un car che gli dice che non può entrare e di andare da Sevda. Demir le risponde che il padre gli aveva ordinato di non lasciarla sola. Un car gli ribatte che però ha potuto tradire e disonorare sua madre anche se sapeva quello che le aveva fatto passare suo padre. Demir le chiede di farlo entrare ma un car irremovibile gli dice di non chiamarla più madre e di andare a vivere con Sevda. Demir allora le risponde che suo padre chiamava Sevda moglie per cui deve capire dove lei ha sbagliato. Allora un car sparò un colpo in aria e gli dice che non vuole più vederlo e di non avvicinarsi più alle sue proprietà. Demir se ne va dicendole che se ne pentirà. È sera e Mushgan è preoccupata e dice alla zia che Zuleya dato che non l'ha denunciata né ha rivelato nulla di Ilmas deve stare progettando qualcosa. L'azia invece è tranquilla e le dice che Zuleya non la denuncerà perché sa che nessuno le crederebbe ma Mushgan insiste dicendo che lo scoprirà. Vengono interrotte dall'arrivo di Fekeli e poco dopo di Ilmas che subito accusa Mushgan di aver tentato di uccidere Zuleya. Lei nega ma lui le dice che glielo ha detto Zuleya allora Mushgan gli risponde che lui invece di accusarla deve dirle che vuole divorziare e se ne va. Interviene Bege che urla contro Ilmas poi la segue. Fekeli gli dice che quella sera lui ha visto Mushgan che faceva il bagno al bambino e che Zuleya sta mentendo e che dopo tutto ciò che ha fatto non le si può più credere. Quindi lo rimprovera per aver calunniato la moglie perché ossessionato da Zuleya come Demir quindi gli ordina di scusarsi con Mushgan. Mushgan è in giardino con la zia e le dice che Zuleya la denuncerà alla polizia. Bege le risponde che se voleva l'avrebbe già fatto e che vuole solo separarla da Ilmas e che comunque Fekeli è dalla sua parte. In quel momento arriva Ilmas che dopo aver allontanato la zia che voleva intromettersi chiede scusa a Mushgan. Lei gli risponde che non è la prima volta che è ingiusto con lei e c'è sempre passata sopra ma questa volta è diverso perché qualsiasi cosa dica Zuleya è sempre la verità mentre quello che lei dice è una bugia e non crede più nemmeno al padre. Allora Ilmas le risponde che la prossima volta che accadrà la ascolterà e non avrà bisogno di provare la sua innocenza. Bege intanto si sta sfogando con Fekeli contro Ilmas. Lui soffrendo per ciò che è successo le chiede di non torturarlo più. Poco dopo quando entra Ilmas lei se ne va. Ilmas dice al padre che Mushgan è ancora arrabbiata con lui e Louis gli risponde che è normale visto l'accusa che le ha rivolto. Poi Fekeli gli dice che capisce cosa ha passato Zuleya ma che lei ha formulato delle accuse inaccettabili e che Mushgan non sarebbe stata capace di fare tutto quello che dice Zuleya. Vengono interrotti dall'arrivo di Cetin che riferisce che un car ha impedito a Demir di entrare nella villa. Nel frattempo Bege dice a Mushgan che le aveva detto che Ilmas non avrebbe creduto a Zuleya e si sarebbe scusato e da quel momento le starà sempre intorno. Mushgan le risponde che non le importa e che forse non è più innamorata di lui e che forse il suo odio per Zuleya è più forte del suo amore per Ilmas ma la zia non le crede. Demir intanto è a casa di Sevda e le racconta che un car arma in mano non lo ha fatto entrare alla villa e che quella è anche casa sua. Sevda gli dice che conosce un car che fa del male quando è ferita. Demir le risponde che lì ci sono sua moglie e i suoi figli e che per colpa sua non potrà vederli. Sevda allora gli dice che sta scaricando su di lui la rabbia che prova per lei e che presto si calmerà. Quindi gli riferisce che è andata da lei che ha dovuto subire i suoi insulti e la sua rabbia. Demir vuole sapere cosa le ha detto e Sevda gli racconta che le ha detto di stare lontana da lui e l'ha minacciata. Terminano così queste piccole anticipazioni di parte della puntata di giovedì e tutta la puntata di venerdì. Il prossimo appuntamento è per domenica. Io come sempre sono Stefania, vi mando un abbraccio e vi aspetto nei commenti per parlare della puntata.